Voglio fare i complimenti alla direzione distrettuale antimafia di Napoli e alla squadra mobile della questura di Napoli, il servizio centrale operativo della Polizia di Stato per gli arresti di questa mattina dei presunti responsabili dell'omicidio del giovane Jenny Cesarano, avvenuto nell'anno 2015 nel quartiere sanità della città di Napoli, brillante operazione dalla quale emerge che Jenny è stata una vittima di stesa di Camorra, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, siamo stati sempre vicino alla famiglia, andai anche io a casa di Jenny a trovare la famiglia e ho sempre sostenuto l'azione di Antonio, del papà di Jenny che senza esitazione si è schierato contro la Camorra, è stato in prima linea nei movimenti anticamorra del quartiere sanità e della nostra città. Napoli si rialza sempre di più nella lotta contro la Camorra, ci credono le istituzioni, ci crede il comune, la municipalità, le municipalità, l'antimafia sociale dei fatti, il popolo in cammino, le associazioni, i napoletani, gli abitanti della nostra città, gli immigrati che anche non si sono piegati alla duchesca al pagamento del pizzo, la stragrande maggioranza dei napoletani è contro la Camorra e oggi è una giornata importante perché Jenny vive non solo nella scultura che si trova nel cuore della sanità, ma vive nella lotta di tantissimi ragazzi di Napoli perché Napoli deve essere definitivamente liberata dalla Camorra e dalla subcultura mafiosa che è l'ossigeno delle mafie e quindi anche della Camorra.